Puscher adolescenti in azione in un condominio del centro di massa. Per prenotare la droga usavano messaggi whatsapp e telegram a cui seguiva la consegna entro poche ore. La guardia di finanza ha scovato e denunciato al tribunale dei minori di Genova due minorenni di 16 e 15 anni sorpresi a spacciare nel palazzo diventato piazza di spaccio di una proficua attività illecita. A dare l'allarme sono stati condomini insospettiti dal continuo via vai di gente in uno degli appartamenti. I militari hanno pedinato e seguito i giovanissimi assuntori che andavano a comprare la droga fin sul pianerottolo trovando durante la perquisizione all'interno 20 grammi di hashish e 400 euro in contanti, un bilancino di precisione, un coltello e oltre 200 grammi di sostanza da taglio. Il metodo utilizzato dai giovani spacciatori prevedeva che il cliente effettuasse una prenotazione della sostanza stupefacente tramite un messaggio sulle chat di telegram o di whatsapp cui seguiva la consegna di quanto richiesto nei pressi del condominio.